Amazon Grace, spiritual della tradizione degli Stati Uniti d'America, in un'elaborazione di Adriano Secco. Il brano che si propone all'ascolto è il famosissimo spiritual dei neri d'America. La versione proposta alterna il coro alla voce solista. Amazon Grace, voce solista, Elisa Fontana. La versione di Stati Uniti d'America 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 Grazie a tutti. La versione di Stati Uniti d'America La versione di Stati Uniti d'America La versione di Stati Uniti d'America